Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova live reaction Milan Cagliari Signori, questa sera sono qui da solo perché quando le cose si mettono male rimangono solo i veri tifosi E a quanto pare in tutta sta banda l'unico serio sono io Commentate con Steve out, Redondo out, Martina out, Anthony out Obiettivo della partita non sbadigliare Mi chiedo scusa, mi chiedo scusa ragazzi, uno sbadiglio ogni tanto ci sta Ocio signori, Ocio, pronostichino di Anthony Ciao Dani, allora pronostichino per questa sera io direi Milan Cagliari 2 a 1 Va bene, va bene, va bene, va bene Ragazzi comunque Giroud deve calmarsi eh Va a dos a minà col braccio a palla lontana Ha rotto il cazzo Giroud, se vuoi picchiarlo lo picchi fuori dal campo, non in campo Obiettivo della partita non sbadigliare Scucchiaia morbido per Cucuese, Pulisic, da fermo, prova a crossare e muro Ehi, ehi Benasser Bella questa scucchiaiata per Cucuese che l'appoggia Pulisic, crossa il centro Cucu prova a segnare, non riesce Tappin vincente di Ismael Benasser 1 a 0 Milan Non conto un cazzo ma vincere è sempre bello Non sbadigliare Comunque possiamo dire più sbadigli di brogna che ti importa Dentro Ocaforto, Mori, Leao, fuori Giroud, Gabbia, Cucuese Ragazzi ho preso un bel caffettino eh Quindi nel secondo tempo 0 sbadigli, ve lo prometto Oh, traversa di Rafa Traversa di Rafa con Seisau Bravo qui Ci ha creduto, ci ha creduto Cross di Pulisic Scivolata di Leao Non era facile perché era in controbalzo sta palla Qui mi piace come ha attaccato l'aria sinceramente Segnerà Ocaforto, me lo sento Come sta giocando la squadra B di Milano Ma ha già giocato l'Inter eh Qua Nandez però era di Ecco qua Oddio Sportiello il miracolo Ma era fuori gioco L'immarcescibile Sportiello Oddio Uh, Sportiello On fire Sportiello Magic Mike Sportiello Rafa 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 Bella palla Bella palla per Pulisic Bravo Rafa Azione che parte dalla tre quarti del Cagliari dove Rafa è tornato a recuperare palla Attacca lo spazio Rafa dopo aver recuperato il pallone Lancia con i giri giusti Pulisic che davanti al portiere avversario mi è letale 2 a 0 Milan Bello anche il movimento di Okafor che si porta a Mina a spasso E Florenzi Cross di Zappapello Per il colpo al volo di Nathan Nandez I Cagliari all'improvviso torna in partita La porca di quella Inserimento alla barella per Nandez Dacci oggi il nostro gol subito quotidiano Promostichino di Anthony preso per adesso Quale ha il ritardo sul cross Musa se lo perde completamente qui Sportiello Ancora Sportiello per i fotografi Potrebbe bloccarla sta palla Chiedo scusa per l'ignoranza Ma Mina Tipo è titolare Della nazionale svizzera È colombiana Ha detto svizzera Ma ha detto svizzera in cronaca È colombiano Vabbè gioca nella nazionale colombiana E ora tutti sanno che è colombiano tranne io Ma roba da matti Magari la madre svizzera E il papà serbo colombiano Ragazzi Teo vuole segnare Teo vuole segnare Teo vuole segnare Teo vuole segnare Si vede che vuole segnare Teo E invece prova a fare l'assist Questi minchia ragazzi È partito come Come un treno Teo Arrivano anche Tomori E ciao Ci prova Re Che golazo Cazzo mi stavo distraendo Appena l'ho visto tirare Ho girato lo sguardo Che bomba Ah finalmente Un cazzo di gol da fuori aria Finalmente È il bolide di Reinders Ah Stop e tiro Stop e tiro Che golazo E il pronostichino di Anthony Va a farsi fottere No la cosa bella È che non rimbalza mai Cioè si spegne in porta Fateci caso Che quando tira Si sente proprio La botta Fortissima Si alzano i decibel di San Siro Si alzano No no Non è la curva ragazzi È tutto lo stadio Oddio Che culo Che culo Che culo Non finisce mai stazione Traversa del Cagliari Altro cross La palla ancora lì Sportiello Eh quasi sono stati sculati Quasi sono stati sculati Rafa 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 4 a 1 Milan Un bacio alla camera Per sua mamma Mando un bacio A mister con Sesa Ah no È sua mamma Scusate Ovviamente avevo detto In un video Che al Milan Nessuno salta il portiere E puntualmente Leao mi smentisce Bravo Bravissimo Rafa Come sterza Rafa Stiamo arrivando Inter Stiamo Cagatevi sotto Che ci siamo Ci siamo Calcio champagne Milan Pialis on fire Popega Rafa Rafa Lo scopetto Secondo me Popega L'ha mandato A fanculo A dire Ma fai sto cazzo Di gol Così io faccio L'assist E invece no E invece no Cazzo Ho detto che segna Okaforo Stanno segnando Tutti tranne lui Bello Che cazzo Ha preso Mie gol Che gol Che gol Cazzo Non sembrava Non sembrava fosse gol Il gol Di capitano America 5 a 1 Milan Pialis on fire 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 Pialis on fire